Travolgente è il termine giusto per definire il musical Jesus Christ Superstar, apposti in piedi in Piazza Duomo per il celebre musical prodotto nella versione originale da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Straordinario protagonista di un cast incredibile, il carismatico Ted Neely, il Gesù originale del celebre film di Norman Jefferson del 1973. Il pubblico aquilano ha potuto godere della tappa finale del tour che il direttore di Amices è riuscito a portare all'Aquila. Neely, come un semplice turista, in questi giorni ha vissuto appieno la città, fermandosi a parlare con tutti con una semplicità unica. Ha visitato il centro, le sue chiese principali. Lo spettacolo, in inglese, con la travolgente orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello, ha visto scena un cast davvero incredibile, accanto al mitico Neely nei Pani di Gesù, altri personaggi importanti come il brasiliano Nick Maia nei Pani di Giuda, Pari di Acacia nei Pani di Annas, Simona Di Stefano che ha fatto la Maria Maddalena, Andrea Di Perzio, Pilato e altri personaggi. Il grande ensemble di acrobati, trampolieri, mangiafuoco e ballerini coreografati da Roberto Croce con le scenografie di Teresa Caruso e costumi di Cecilia Betona. L'energia, la capacità di comunicare e l'originalità del musical di Piparo sono un tutto in uomo con la forza rivoluzionale di una storia che non invecchia mai e che con il suo messaggio di spiritualità e coraggio raggiunge spettatori di tutte le età. 45 anni fa segnò un punto fondamentale nella storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. L'energia, la capacità della storia del cinema da oltre 20 anni nel teatro musicale. Grazie.